è l'ideale chiusura di queste due giornate molto intense che vertevano su su temi diversissimi tra loro e diciamo il brocci d'oro per noi come dire iberisti si è parlato tanto di relazioni di complementarietà di interdisciplinarietà e ieri ma anche stamattina con la proposta lanciata e che adesso si sta concretizzando del clamolab con antonella e mina e quindi passiamo adesso la parola ai colleghi dell'università per per esplorare quelle che sono le collaborazioni molto intense che abbiamo già visto anche nella tavola precedente con con i ragazzi e quindi con l'università di alicante e le università cilene sentiamo cosa hanno da dirci in merito a quelle proprie specifiche ecco scusate parto io perché poi ho le due comunque vi devo lasciare che un senato accademico io mi presento sono marco modenesi non sono un iberista non sono libero americanista sono un francofonista ma che da anni lavoro ma certo sono nel vostro gruppo e quindi no per per spiegare chi sono a chi non mi aveva visto fino adesso quindi esatto facciamo comunque latini eh sì questa tavola rotonda adesso brevemente appunto parla delle nuove progettualità tra un in e cnr e credo che stamattina abbia ricordato appunto antonella e mina questa nascita del clamolab che mi sembra appunto un ottimo eh punto di ripartenza del lavoro eh insieme ehm avanzano due o tre osservazioni generali che riguardano poi sul diciamo la falsariga su cui forse le nuove progettualità si dovranno e si potranno muovere eh si è parlato tanto ovviamente di ricerca stamattina eh io però sono un universitario dove nell'università ci sono almeno tre livelli la ricerca che evidentemente è o sul campo fuori campo eccetera va bene la diffusione del sapere che riguarda ormai quello che chiamiamo tutti la terza missione e la terza cosa che non è terza in ordine perché quella che a me sta più a cuore se non farei questo lavoro che è la la formazione che secondo me è un suo primato eh nella specificità dell'università e proprio stamattina in apertura era stato appunto eh segnalata era stata segnalata la necessità di una integrazione di integrazioni curriculari curriculari e quindi anche appunto di didattiche da questo punto di vista qui e credo che una delle progettualità in cui ci dovremmo muovere proprio anche quella di tenere presente la necessità di eh formazione di educazione del degli studenti è vero che la ricerca poi porta anche a sua volta formazione educazione impegno sociale ma noi abbiamo anche questa esigenza che io vedo sempre più importante sempre più necessaria di formare eh non di insegnare dei pensieri agli studenti ma un po' più ambizioso insegnare loro a pensare credo che questo tipo di eh approccio che c'è nel nel nei campi in cui ci muoviamo eh questa ricerca sia abbastanza fondamentale eh per cui sicuramente un'interazione eh Camo Lab CNR eh e attraverso questo laboratorio il CNR e anche altri eh colleghi verso appunto una apertura che per quel che riguarda ripeto l'attività curriculare, l'attività didattica da un lato ci permetterebbe in qualche modo dall'interno di svecchiare eh i programmi di formazione che abbiamo perché ci pensavo l'altro giorno con Emilia Perra ieri con Emilia Perassi cioè di fatto i programmi che ci sono oggi sono gli stessi di quando ero studente io e che vuol dire che non risalgono al Pleistocene ma quasi in forma eh e le esigenze sono cambiate evidentemente certo giustamente si è parlato appunto di scienza aperta, si è parlata di digital humanities però poi alla fin fine tutto questo va calato nella realtà per cui mi sembra che una delle attività che potremmo appunto pensare proprio per la specificità della ricerca da un lato e dall'altro la ricerca della formazione della didattica è a una serie a livello veramente trasversale a livello come diceva eh Laura Scarabelli prima un approccio inter e transmediale stavo ascoltando prima chi si occupa di narrativa grafica eh abbiamo lavorato spesso su una narrativa grafica qui dentro forse potremmo cominciare appunto anche a eh coordinarci in maniera più ampia invece avere ogni tanto delle eh specie di 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 momenti che 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 sorprendono un po' a destra e sinistra quando poi in realtà probabilmente andiamo convergiamo molto di più. La cosa più banale sono effettivamente i seminari pensare perché no insieme a a CNR noi a pensare a dei corsi di master a quelle che che si chiamano ogni tanto le season schools per esempio ehm e poi quello che già viene fatto soprattutto nel caso della letteratura ispanoamericana queste eh lezioni frontali in modalità mista che permettono appunto di aprire verso eh verso l'esterno ehm tutto questo e ripeto concludono no? Teniamo presente appunto questo forse quello che dovremmo avere in quella bisogno di agire che è stato ricordato stamattina eh sarebbe magari di trovare una figura di coordinamento proprio tra CNR e dipartimento cioè qualcuno che faccia veramente a ponte continuo tenga eh eh le fila dei 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 rapporti proprio per andare effettivamente nella direzione direi della dell'educazione e della formazione e anche poi di conseguenza dell'apertura a livello della terza missione eh verso la diffusione del sapere all'esterno della delle mura dell'università. Siamo in un momento storico lo vediamo tutti che non è allegro forse visto i campi dove lavoriamo sugli argomenti che dobbiamo toccare per forza di cose per le realtà storico sociali dei paesi su cui che studiamo forse è davvero il momento in cui possiamo in qualche modo sensibilizzare sia i nostri studenti in un modo e poi eh coinvolgere all'esterno il più possibile chi sta eh in ascolto anche di ciò che l'università può pensare credo che possiamo farlo da questo punto di vista con una collaborazione che per carità io per primo faccio ricerca non sto dicendo che la ricerca non sia importante però la ricerca va nel nostro caso in università in particolare deve alimentare la didattica ed è il punto da cui parte la nostra didattica e credo che quindi le due cose si dovrà insistere un po' proprio per farle funzionare coniugarle insieme rispetto eh credo che siamo in un momento storico in cui è una responsabilità enorme avere davanti dei giovani che dobbiamo formare formare proprio a livello di persona e non solo ovviamente a livello di nozioni e credo che ripeto le aree su cui lavoriamo che se lo poi appunto in generale aree se c'è un'area non problematica adesso nel mondo non la vedo però che comunque in qualche modo eh riescano a coinvolgere e che diano anche agli studenti l'idea che eh ci lavoriamo tutti che non è che l'università è una specie di teca chiusa che non ha rapporti col mondo esterno quindi e credo che questo si possa fare per cui auspito davvero che la progettualità che sicuramente ci sarà tenga presente effettivamente che forse il primo passo che dobbiamo fare anche per una nostra visibilità interna ed esterna visibilità intendo proprio di questa collaborazione tra le due istituzioni tra i due enti sia proprio quella che passa attraverso la formazione e la diffusione del sapere esterno grazie buongiorno a tutti anch'io mi presento molto rapidamente sono una storica di formazione modernistica che però ha intrattenuto un rapporto davvero antico fecondo e profondo con le persone che sono state ricordate ieri Giuseppe Bellini Aldo Albonico e la diciamo tradizioni di studi a cavallo tra storia della letteratura storia delle culture e delle generazioni che ci hanno preceduto e mi occupo appunto di storia culturale di storia globale di storia della storiografia con un'enfasi sui rapporti tra età moderna e tempo presente tra il mondo italiano attraverso naturalmente una relazione forte con l'Europa e le Americhe in particolare le Americhe iberiche quindi mi ha da un lato dal punto di vista biografico commosso questa iniziativa perché ho visto pezzi di vita diciamo di formazione di iniziative culturali di incontri anche di un'idea di università e incarnata dall'idea che il dialogo tra le discipline è un prerequisito essenziale per come dire produrre buone idee buona didattica e una disseminazione forte del sapere perché è proprio nell'incontro e non nella chiusura all'interno delle gabbie che sono state ricordate poc'anzi che condizionano anche poi le forme di trasmissione del sapere e nel mio settore disciplinare orientano anche verso una sorta di neopositivismo nella comunicazione dei risultati della ricerca e passando da questa nota personale disciplinare invece al rapporto della mia posizione oggi rispetto a questo nuovo progetto evidentemente da storica che insegna una disciplina dal titolo un po' audace storia della Spagna dell'America Latina oltre a una storia moderna per lingue che da molti anni con molta soddisfazione interpreto come una storia globale in cui le lingue e le culture sono affrontate nelle loro interazioni sulla linea del tempo ecco questa storia della Spagna dell'America Latina ha un grande successo tra gli studenti e lo riportano poi le tesi che triennali e magistrali che così devo seguire ed è in realtà una materia di intersezione perché gli orizzonti cronologici le fonti che mettiamo in gioco sono molto variegate quindi mi associo alla come dire all'interpretazione che ha proposto poc'anzi Marco Modenesi e rispetto al come dire al contributo che penso la storia possa dare a questo progetto mi sento molto a mio agio perché il professor Bellini e le persone che gravitavano intorno a lui in questa università erano appunto multidisciplinari e interdisciplinari proprio per per vocazione dialogavano tra loro e si incontravano sul piacere di ritrovare l'umano nella ricerca e questa era una cosa che abbatteva anche un po' le frontiere tra le generazioni prima vedere questi questi nuovi ricercatori impegnati in orizzonti anche così impegnativi sul piano della sicurezza personale è un altro dato molto confortante però volevo se vogliamo ancorare il progetto a un osservatorio molto preciso che è quello milanese che anche questo ci riporta a una come dire a un modo di fare cultura che in questa università ha un antico radicamento e ritengo che Milano si presti molto bene ai progetti anche di questo nuovo laboratorio da tre punti di vista come un osservatorio e come un archivio è stato ricordato prima il bel progetto sui sud del mondo e abbiamo promosso qualche anno fa col Mudec un'azione su Milano cittamondo dedicata al Perù e adesso mettendo fin fondo un po' in rete queste sensibilità il nostro dipartimento ha un progetto dipartimentale per il centenario di terza missione che vi segnalo perché potrebbe essere un proprio un primo terreno sulla terza missione dedicato al titolo un po' sintetico le lingue di Milano ma inteso come lingue culture letterature presenze di comunità internazionali quindi un osservatorio da cui pensare il mondo nel senso nelle sue molteplici articolazioni tra lungo periodo e tempo presente ma anche un archivio Milano è ricchissima se si ha come dire la passione e l'interesse come è il caso in questo dipartimento eh di farlo eh di eh fonti eh materiali materiali di memorie di culture mi ha molto colpito il progetto del collega Guasco sulla digitalizzazione del dei diari di Martini perché sappiamo che Cardinal Martini è stato un promotore della pastorale dei migranti e non più tardi di un paio di settimane fa la devozione del signor dello Smilagros è partita dalla chiesa di Santo Stefano con centinaia e centinaia di eh diciamo membri della comunità peruviana che hanno partecipato a una devozione che a Lima blocca la città e fino in piazza del Duomo no queste sono tracce io vi porto eh il mio diciamo contributo da persona sensibile al mondo ispano americano e quindi eh direi che da questo punto di vista eh una sicuramente una dimensione promettente in relazione alla alla terza missione è proprio questo nesso tra una Milano osservatorio una Milano archivio eh eh indagabile tra il passato lungo periodo tempo presente il presente una città internazionale in cui le comunità eh ispano americane ancora una volta mi scuso eh enfatizzo le mie competenze di ricerca sono eh significative e eh appunto la pluralità dei luoghi e naturalmente qui ci ricolleghiamo anche alla didattica perché nel nel nostre aule noi abbiamo un pubblico internazionale composto sia da studenti che vengono da altri paesi per scelta personale o per i casi ma dalle seconde generazioni e anche questo è una dimensione molto promettente e che come dire arricchisce le nostre prospettive di ricerca sul piano del futuro è mettere come dire dare organicità a questi a questi percorsi e eh appunto io mi sentirei di come dire eh ipotizzare una condivisione e un aggiornamento in relazione in particolare a questo progetto di terza missione eh che è dedicato poi a una serie di azioni rivolte alla città nell'arco del duemilaventiquattro eh sul filo delle lingue e delle culture di Milano appunto promosso dal nostro eh dipartimento. Ecco questo è un po' il il quadro che ci tenevo a proporvi e eh ringraziandovi appunto di queste giornate molto commoventi anche sul piano umano. Grazie. Allora eh buongiorno eh quasi buon pomeriggio a tutti e a tutte eh mi presento e eh attraverso una nota personale dico veramente un un paio di considerazioni eh per questa occasione che eh è propizia eh propizia per eh per me che eh proprio in questi giorni riflettevo la pubblicazione numero due la mia pubblicazione numero due del duemiladue è un libro del CNR eh da un titolo che oggi pare davvero del del paleolitico medio che era la scoperta le scoperte cinquecento anni di Brasile ehm siamo passati attraverso una rivoluzione epistemologica forse l'abbiamo solo sfiorata eh sicuramente in questa università nella iberistica iberoamericanistica sentendo tutta l'insufficienza di queste categorie che sono categorie che forse dovremmo provare a eh non dico scardinare ma quantomeno a rileggere criticamente perché abbiamo sentito il tipo di di ricerca no ehm quali quali punti di avanguardia tocca dove l'insufficienza è come dire eh è chiara non è solo linguistica non è solo culturale ma è anche eh epistemologica e oggi chi insegna eh come faccio io come fa Laura come fa Marco nel 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 suo ambito come fa come fa Maria Benzoni e altri eh utilizzare la parola scoperta scoperte no dentro una una storia del colonialismo del postcolonialismo o della decolonizzazione eh piuttosto ehm inattuale sicuramente noi che siamo la generazione dei post pionieri eh Bellini è stato un pioniere come ce ne sono tanti anche nella portoghesistica Bellini ha avuto la eh la capacità di capire che eh per esempio a Milano liberistica o liberoamericanistica milanese sarebbe stata insufficiente senza la sua dorsale eh portoghesistica eh portoghesistica brasilianistica e devo non mi piace non mi piace di darmi meriti ma l'apertura che ho provato a dare anche attraverso per esempio istituzioni ehm che hanno aiutato contribuito con 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 finanziamenti come l'istituto Camões aprire Portogallo che era ovviamente nel curriculum canonico classico di questa università abbiamo detto il Brasile e poi l'apertura all'Africa chissà se eh collaborando col CNR non ci sarà anche attraverso la lingua portoghese un'apertura agli orienti no a a queste letterature che in ehm che sono studiate ma che in Italia le letterature scritte in portoghese ma prodotte in in Oriente sono ancora eh del tutto sconosciute eh dicevo eh un'apertura a a mondi culturali eh che in un certo senso hanno aiutato anche a ad attraversare la liberistica libero americanistica eh eh milanese e in questo senso certe eh pratiche didattiche certe pratiche di ricerca non sarebbero nate se non ci fossimo trovati in questo contesto che è quello di Milano eh ricordo semplicemente no eh prendendo spunto anche dalle parole di di Maria Benzoni il il progetto Milano Milano e Sud del Mondo nasce da una serie di eh eh felici coincidenze eh comincio a studiare perché la eh Milano è la capitale della solidarietà politica negli anni cinquanta sessanta e settanta nei confronti dei movimenti di liberazione in Africa in particolare per quanto riguarda l'Algeria e poi per quanto riguarda le colonie eh portoghesi che in quel momento prendono come come fa l'Algeria le armi per combattere contro i colonialismi europei e mi accorgo appunto che Milano eh benché questa narrativa sia stata silenziata è davvero una capitale di solidarietà politica culturale editoriale pensiamo semplicemente no a questa città come grande archivio novecentesco della eh sprovincializzazione della letteratura in Italia e della della ricezione delle letterature soprattutto delle letterature che che ci riguardano no che arrivano dai 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 su del mondo ehm per quanto riguarda quindi eh progetti sicuramente continuare su su queste triangolazioni per quanto riguarda la didattica sicuramente ehm eh oltre no ai bloccatissimi eh limitatissimi spazi di manovra che abbiamo sui 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 su sugli insegnamenti del triennio della magistrale sicuramente ci sono spazi di libertà attraverso i laboratori eh adesso ricordavo proprio l'anno scorso no abbiamo fatto un laboratorio sulla 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 Mazzonia eh collaborando con 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 Maria Benzoni eh cioè gli spazi ci sono bisogna forse anche un po' eh se non proprio rovesciare almeno eh scivolare di prospettiva cioè far 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 capire agli studenti come certe tradizioni stratificate come certi canoni stratificati possono essere eh discussi smontati decostruiti eh credo che in questo liberistica libero-americanistica eh qui a Milano in questi vent'anni che ci separano no no dal da quel titolo la scoperta le scoperte attraverso poi tutta una una serie di discipline che sono arrivate eh la teoria postcoloniale la teoria decoloniale il culturalismo eccetera eccetera hanno in un certo senso eh contribuito io mi fermo qui così non rubo altro tempo e possiamo anche andare a pranzo bueno llegamos al final primero quiero agradecerla la invitazion eh l'invitazione a Laura per per essere qui in l'Università di Milano, e mi presento brevemente, io sono professora di l'Università di Buenos Aires, professora di literatura latinoamericana, e dirijo il Instituto Interdisciplinario di Studi dell'America Latina. Aprovecho che il professor Russo ha abito questa porta per señalar che evidentemente queste categorie sono insuficienti, incluso in Latinoamérica, che mi sembra essere la più inclusiva, è insuficiente, però sin duda, l'Hispanoamérica e l'Iberoamérica sono categorie che noi non utilizziamo, che ci sembra che l'España non ha nulla che vero con l'America Latina. Quindi, almeno nel momento attuale, la produzione latinoamericana non ha nulla che vero e solemo sacar a l'España e incluire a Brasil. Que è, sì, è così. No sé se è qualcosa di gracioso, però è qualcosa che occorre. Devo confesar che è così. Quindi, alcune delle cose che ascolti qui mi risultano molto differenti di come concebiamo noi una disciplina che finalmente e tutti pensiamo che è la stessa. Anoche, in la cena, parlavamo con Marco di questo che è stata francesa e non italiana o latinoamericana. E io ricordavo un chiste di una novela di Graham Greene, che si chiama Nuestro Hombre in La Habana, dove mandano un'interprete francese invece di spagnolo, perché è la unica che consiguero. La mandano a Cuba. E quindi, quando lui si cheia di che parlare francese e non spagnolo, dal servizio secreto britannico dice che finalmente sono tutti latini. Finalmente siamo tutti latini. Questa è la conclusione. In questo ordine, anche di venire a señalar questo, che non è di nulla modo una provocazione, ma è una exposizione di come si facendo le cose in altre parti. Per esempio, in la propria America Latina, in un espacio di America Latina, che è Buenos Aires, non ho la pretensione, di che questo rappresenta tutto, vengo a fare una specie di contraoferta, se si chiede. Perché, dal l'instituto che io dirijo, il mese passato, a comienzo del mese di ottobre, abbiamo organizato una riunione che si titolò Humanistas Italiani in America Latina. Cioè, vedere la parte inversa, non solamente gli italiani studiando America Latina, sino di che modo il pensamento italiano impactò in America Latina, in una America Latina che, che, fino a tutti i anni 80, per lo meno, in termini di teoria literaria e di cultura in generale, mirava molto hacia Francia. E che in gli ultimi anni, e in questo tiene molto che vero con le modi del postcolonialismo e alcune delle cose che si señalano oggi, mirò molto hacia in America Latina. Però non possiamo negare il impatto di l'Italia in America Latina, soprattutto in la zona dove io vivo, che è il Rio della Plata, a livello migratorio, di maniera maggioritaria, come non possiamo negarlo a livello del pensamento. e quando iniziò a pensare questo congresso, per chiamarlo in alcun modo, Humanistas Italiani in America Latina, armé una lista che era infinita, però señalo básicamente dos nombres come para detenernos in alcun lugar. Antonio Gramsci, che può essere legato come historiador, come politico, come teòrico della literatura, della estetica, eccetera, e un'altra cosa che può essere legato in diversi dimensioni, come è Benedetto Croce, per esempio per alcuni nomi. In il marco di questo incontro, che si è stato in relazione con gente di Italia e di diversi lugares di America Latina, avevo gente, l'oggettamente, di Argentina, di México, di Ecuador, è a dire, rappresentanti di diversi paesi. No logramos incluir a qualcuno di Brasil, però non ci sarebbe piuttosto, perché in realtà sempre ci connectiamo con in Brasil, però non logramos a nessuno che hiciera algo específicamente sobre alcun italiano, in il caso di Brasil. Pienso, in una delle doctorandazioni che parlò su tema di Brasil, penso, per esempio, in Lilia Schwarz, una gran historiadora brasileña, che hizo su tese doctoral sobre los museos de antropologia in Brasil, e básicamente sobre l'impacto del lombroso, che è stato espectacular, todavía a nivel de las plantillas policiali sigue funcionando l'ombroso. e in questo contesto elegimos a una figura de los italiani per arrivare a l'America Latina, perché ha sido una figura che ci illuminò in un aspecto che credo che sigue siendo una deuda per tutti noi, che è il della metodologia. E esa figura fu la di Carlo Ginzburg, a cui la Università di Buenos Aires le otorgò il doctorato di honori causa, precisamente, perché è una figura che che è stato leggato in la storia, in la storia d'Aucure, per dirlo con i francesi, è stato leggato in la storia del arte e è stato leggato in la literatura. Un texto come Il queso e i los gusanos è un modello di studio della literatura popolare, in la mia linea in cui lo era la literatura e vita nazionale di Gramsci, è dire che, che, effettivamente, abbiamo i punti di encuentro, e a medida che si si desenvolvelo questo convegno, questo congresso, ci dimostrazione di che c'è un area di studio che non ha stato lavorato, che è precisamente questo, il l'impatto del pensamento latinoamericano, perdono, il pensamento italiano dentro dell'America Latina, è dire, fare un lavoro di vaivè, non sempre studiare lo altro solamente, sino anche come questo altro ha sido impactato per lo proprio. Cierro con un esempio che mi sembra che è come una specie di modello per lavorare con questo, e di passo faccio una piccola observazione metodologica. Io dice che dirige un istituto interdisciplinario. Credo che, abitualmente, eliciamo interdisciplinario o transdisciplinario, concebiamo la idea del cruce di disciplina di una maniera un poco egoista. Siempre pariamo in una, che è la che noi mesi mesi ejerciamo, la literatura, e usiamo le altre, le arti platti, la storia, la antropologia, come auxiliares per un lavoro proprio. Invece di trattare di producire, effettivamente, un avance, un conocimento in tutte le areas, che questo entendo che sia qualcosa di interdisciplinario. Deberiamo tendere a questo, mi sembra. Questo esempio che volevo retomare è un esempio di un latinoamericano in Italia che tratta di mostrare come il pensamento italiano e il latinoamericano possono intercruzarsi. questo lo hizo hace 100 anni già, osea che non vengo a contare una novedà. Ese latinoamericano era un peruano che si chiamava José Carlos Mariatti che si aveva formato in questa zona, ma specificamente in Torino con il gruppo Lordine Nuovo di Gramsci. Il scrive un testo meraviglioso, molto breve, che tutti possono consultare, tutti que possono leggere in spagnolo, perché non sta traducendo che io sepa, che si chiama Siegfried e il professor Canella, che è sobre un caso famoso della prima guerra mondiale durante la quali due italiani sono eriti durante un bombardeo alemane, uno prusiano uno muere e il altro con una herida grave però perde la memoria. Uno era un obrero tipógrafo di Torino e il altro era un profesor carduchano di Verona. Il tema è che li hanno confondito. E il che sobrevivi è il veronese però lo mandano a Turin pensando che è il tipograffo che anche era un estafatore, un truffatore. A partir di tutto il desarrollo che fa Mariategui in cui, mediante un testo literario, discute la versione official della prensa fallista della epoca che sostiene che non si è equivocato di nulla maniera, però anche in questo testo mirando all'Italia uno può trovare il punto di partita di una serie che ha stato sumamente fértil in la literatura latinoamericana che è il relato sobre l'infame. Allì surge la storia universal dell'infame, è il punto di partita anche per il estilo che usa Mariategui il punto di partita di questo testo di Borges e che potremmo llevarlo a la literatura nazi in America di Roberto Bolaio, per esempio. Quindi, vengo a fare questa piccola contraoferta che sarebbe la di studiare anche a la inversa, non lasciare di studiare lo latinoamericano, ma di farlo di una maniera più dialettica, non solamente l'Italia mirando l'Italia 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 ma anche l'Italia l'Italia ha impactato l'Italia può essere un atrevimento però per lo meno è qualcosa che dovremmo provare se funziona e che sia una invenzione metodologica e non metodologica come una cinturone che uno deve tener al comienzo il metodo che si va ajustando all'objeto all'objeto ma molte grazie e grazie 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 mille il tempo è tiranno quindi soltanto un minuto per eh ringraziare eh questa eh i miei colleghi e e quest'ultima tavola perché ci ha dato molti stimoli a me ne ha dati moltissimi e soprattutto me ne ha dati molti per ripensare continuamente credo che sia il dovere di tutti noi al nostro eh ruolo di eh di di professori uso questo termine prima di 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 utilizzare quello di ricercatori siamo entrambe le cose ehm credo che sia importante considerare il nostro luogo di enunciazione sia importante considerare questi movimenti dialogici tra le aree con le quali soprattutto a partire dalla pandemia siamo sempre connessi in una temporalità spesso sfasata e soprattutto considerarlo nelle pratiche perché molto troppo spesso eh smettiamo la veste di professore di ricercatore per mettere quella del del burocrate che deve consegnare i vari documenti che servono al funzionamento delle delle nostre istituzioni eh per quello vorrei ritornare a mettere al centro ci ho tenuto tanto ad avere la eh una riflessione sull'accesso aperto vorrei tornare a mettere al centro il discorso sulla valutazione perché quando noi ci muoviamo nelle nostre discipline dobbiamo pensare prima di tutto che quello che stiamo facendo è appunto stiamo formando il futuro non stiamo diciamo la non è un un fine il nostro agire ma è un mezzo per formare il futuro e troppo spesso ce ne dimentichiamo triturati dalla macchina della valutazione la valutazione siamo noi probabilmente dovremmo ricordarci di più di questo aspetto e rimettere al centro il nostro ruolo di educatori ehm Marcella ha citando appunto questa questa provocandoci dicendo guardiamoci creiamo questi dialoghi ha messo al centro un'altra questione che secondo me è fondamentale usciamo dalle nostre discipline fino a quando saremo schiavi delle della specificità delle nostre discipline il sapere non progredirà più quindi andare nei bordi delle discipline sulle soglie con la forza delle nostre metodologie ma prendendo dall'altro smett dismettendo le nostre certezze per andare a prendere a pescare nell'incerto diventa la condizione fondamentale per muovere qualcosa nel futuro e e questo aspetto eh di ripensamento ripensamento del futuro attraverso una prospettiva di critica profondamente culturale eh mi sembra mi sembra chiave io chiuderei qui abbiamo tanto da fare eh consideriamo questo come la nostra casa come lo spazio nel quale muoverci con i nostri corpi con incontri che eh mi auguro si possano moltiplicare e con incontri che vedono sempre più spesso la presenza dei giovani anche qui sono iconoclasta non mi piace pensare ai nostri studenti come gli studenti e noi siamo i professori siamo in un ambiente quanto mai poroso e quindi i primi a noi dobbiamo insegnare a cercare e a ricercare ai nostri studenti insegnare la ricerca ai nostri studenti perché senza questo la formazione è fallita quindi lancio questa provocazione per tutti voi grazie e grazie mille per questo incontro queste ultime parole credo che facciano e diano un onore al professor Bellini che ci ha insegnato proprio questo no? A stare nella ricerca in questo modo grazie grazie grazie